Ciao a tutti i miei canali, bentornati in questo nuovo video, sono qui oggi per portarvi il primo video a tema natalizio che ho deciso di chiamare hashtag perni natale perché volevo chiamarli in modi banali, mi piaceva questo nome non ho cominciato a fare i vlog dal primo di dicembre perché se vi aprisse il mio diario e vi facesse leggere tutte le verifiche e interrogazioni che ho nel mese di dicembre vi mettereste a piangere per me, quindi già ho il tempo a malapena per respirare, mangiare, lavarmi e dormire perché sono sempre o a studiare o a cavallo, quindi i vlogmas non ci stavano, però sto organizzando tantissime sorprese per voi quindi restate attivi nel mese di dicembre e poi da quando finisce la scuola a gennaio quando ricomincia perché ne vedete delle belle sul mio canale quindi restate attivi mi raccomando e in questo video ho pensato di portarvi un'idea regalo molto carina e simpatica e per cominciare a darvi delle idee per i regali per i vostri familiari, amici, cugini, persone a cui dovete fare un regalo e non avete ancora minimamente pensato che regalo fargli questo è un regalo che non c'entra con l'equitazione ma secondo me è un regalo bellissimo che io apprezzerei un sacco sto parlando appunto di un orologio Daniel Wellington, questo qui è la scatolina che hanno mandato a me so che in questo momento se ordinate un Daniel Wellington vi arriva in una scatolina natalizia tutta super carina quindi per fare un regalo c'è perfetto, è già impacchettato, pronto, non dovete neanche fare troppa fatica voi adesso vi faccio vedere tutto e restate fino alla fine perché vi darò anche un mio codice sconto che potete utilizzare del 15% che è valido fino al 31 dicembre se anche vi rendete conto dopo Natale che qualcuno vi fa un regalo e voi non l'avate minimamente pensato di fargli un regalo potete comunque usare il mio 15% fino al 31 dicembre quindi non vi preoccupate vi salverò la vita allora questo è appunto il pacchetto in cui mi è arrivato è una roba che si fa così di nuovo c'è scritto Daniel Wellington e c'è tutto il bordino dorato poi si apre così e dentro qua c'è dovrebbe essere l'orologio poi si fa così e dietro qua ci sono tannuto oddio un sacco di cose tra cui questo probabilmente era attaccato all'orologio lo devo aver staccato io poi qua aprendo questo contenitore ci sono dentro queste che sono owner's guide che è proprietario's guide cioè guida per il proprietario e poi dentro aspetta l'ho fatto cadere e poi dentro c'è anche questo che voi non vedrete mai e probabilmente non capirete bene cos'è ma serve per cioè se lo infilate dentro di fianco al cinturino per cambiare il cinturino perché appunto per il Daniel Wellington potete cambiare il cinturino che comunque è un'idea super carina perché potete mettere in tanti diversi un attimo arrivo allora questo è appunto il mio orologio adesso ve lo faccio vedere bene sì lo tengo a destra non so perché da quando sono piccola che sono abituosa ad avere gli orologi sulla destra quindi giuro non sono pazza ma lo tengo a destra io ho scelto un modello super semplice che è con il quadrante bianco il cinturino nero e con il quadrante e i gancetti oro e anche le lancette e tutti i dettagli sono tutti oro e penso sia troppo elegante e carino e mi piace veramente veramente tanto e quindi per quanto riguarda i miei codici sconto appunto avrete tempo fino al 31 dicembre 2018 per acquistare il vostro Daniel Wellington vi lascio giù in descrizione il loro link così potete andare direttamente a cercare lì il vostro orologio o quello da regalare mi raccomando utilizzando il mio codice sconto che è IPER tutto maiuscolo che è il mio cognome avrete appunto il 15% di sconto sul vostro ordine ed è cumulabile con altre offerte quindi se andate sul sito e trovate non so uno sconto natalizio qualsiasi cosa potrete comunque aggiungere sopra a quello il mio codice del 15% quindi vi verrà a costare ancora meno e niente io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia stato utile fatemi sapere mi raccomando se acquistate un orologio dal loro sito fatemelo sapere in direct su Instagram dove volete qua nei commenti che mi fa un sacco piacere saperlo spero che questo primo per Nilla Natale vi sia stato un po' di aiuto vi sia piaciuto se vi lasciate un palicione su ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e se non volete perdere i prossimi video attivate la campanella perché ne vedrete delle belle a dicembre mi raccomando restate un sacco attivi vi faccio sapere sempre tutto sul mio Instagram che è questo che vi lascio giù in descrizione però attivate la campanella vi conviene perché chissà io vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo al prossimo video ciao